Sono state sospese a Valle Crosi le ricerche a terra di Rita Martini, la pensionata di 74 anni e ex volontaria della Caritas, scomparsa dallo scorso 27 novembre. Resta allertata la Guardia Costiera per eventuali segnalazioni in mare. Le unità cinofile dei carabinieri di Firenze hanno infatti condotto vigili del fuoco e volontari della protezione civile proprio verso il mare, dove i subacquei dei pompieri hanno compiuto alcune immersioni, purtroppo senza risultato. Ulteriori ricerche sono state compiute anche lungo il corso del torrente Verbone, ma anche in questo caso senza trovare nulla, nemmeno un segno del passaggio della donna. Controlli in mare sono stati compiuti anche con l'impiego di un elicottero della Guardia Costiera e non si esclude che l'anziana donna possa essere stata vittima di un malore e sia quindi caduta in mare, oppure che abbia deliberatamente scelto di gettarsi in acqua. In ogni caso sono ormai molto molto flebili le speranze di poterla trovare ancora in vita.